e non ci sa andare il ragazzo in moto mi sto insegnando come è? oggi ho preso anche il pivello, un belino, guarda con il gelatino, mi faccio l'ingiore puoi spargere la voce che è un gelatino, ti fai in palestra? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.